quando volle salutare Odette per rientrare lei gli chiese di restare ancora e anzi lo trattenne vivacemente afferrandogli il braccio nel momento in cui aveva aperto la porta per uscire ma lui non vi fece attenzione perché nella moltitudine di gesti di frasi di piccoli incidenti che riempiono una conversazione è inevitabile passare senza notarvi nulla che desti la nostra attenzione accanto a quelli che nascondono una verità che i nostri sospetti cercano a caso e di soffermarsi invece su quelli dietro i quali non c'è niente Odette gli continuava a ripetere che peccato non vieni mai nel pomeriggio e l'unica volta che capita che tu venga non ti ho visto Swan sapeva bene che non era abbastanza innamorata di lui da provare un dispiacere così vivo per aver mancato la sua visita ma siccome era buona desiderosa di essere gentile e spesso triste quando le capitava di contrariarlo trovò del tutto naturale che lo fosse quella volta per averlo privato di quel piacere di passare un'ora insieme piacere che era grandissimo non per lei ma per lui tuttavia quell'aria dolorosa che lei persisteva ad avere per una cosa non poi così importante finì per meravigliarlo in quell'atteggiamento ricordava ancora più del solito i volti delle donne del pittore della primavera aveva in quel momento lo stesso viso abbattuto e desolato che sembra soccombere sotto il peso di un dolore troppo grave per loro anche quando semplicemente lasciano giocare il bambino Gesù con una melograna o guardano Mosè versare dell'acqua in una tinozza aveva già notato in lei una volta un'analoga tristezza ma non sapeva più quando ed un tratto si ricordò era stato quando odette aveva mentito parlando a madame verdurin l'indomani di quel pranzo a cui non era intervenuta con il pretesto di non sentirsi bene ma in realtà per restare con suanna certo fosse anche stata la più scrupolosa delle donne non avrebbe potuto provare rimorsi per una menzogna tanto innocente ma le bugie che diceva comunemente odette lo erano meno e servivano a impedire di scoprirne altre che con la tale o tal'altra persona avrebbero potuto crearle terribili difficoltà inoltre quando mentiva in pre dalla paura sentendosi poco agguerrita per difendersi incerta del risultato aveva voglia di piangere di stanchezza come certi bambini che non hanno dormito poi sapeva che la sua menzogna era di solito gravemente lesiva per l'uomo a cui la diceva e in balia del quale avrebbe potuto cadere se mentiva male allora si sentiva umile e colpevole davanti a lui e quando doveva dire una bugia insignificante e mondana per associazione di sensazioni e di ricordi provava il disagio di una fatica eccessiva e il rimorso di una cattiveria quale deprimente bugia stava per dire a suanna perché avesse quello sguardo doloroso quella voce lamentosa che sembrava piegarsi sotto lo sforzo che lei si imponeva e chieder perdono gli sembrò che si sforzasse di nascondergli non solo la verità sull'incidente del pomeriggio ma qualcosa di più attuale forse di non ancora accaduto e molto prossimo e che avrebbe potuto illuminarlo su quella verità in quel momento sentì un colpo di campanello odette non smise di parlare ma le sue parole non erano che un gemito il rambarico di non aver visto suanna nel pomeriggio di non avergli aperto era diventato una vera disperazione si udì la porta d'ingresso richiudersi e il rumore di una carrozza come se qualcuno stesse andando via quella persona probabilmente che suanna non doveva incontrare a cui era stato detto che odette era uscita allora pensando che soltanto per essere venuto in un'ora in cui non ne aveva l'abitudine si era trovato a scombussolare tante cose che lei voleva non sapesse provò una sensazione di scoraggiamento quasi di disperazione ma siccome amava odette e aveva l'abitudine di proiettare su di lei tutti i suoi pensieri la pietà che avrebbe dovuto provare per sé stesso la provò per lei e mormorò povera cara